A una settimana scarsa dalla fine di agosto, la calore estiva non ne vuole sapere di attenuarsi. Anzi, secondo le stime dei meteorologi, una vera e propria tempesta di calore dovrebbe portare in questi giorni i valori dei termometri su di almeno 10 gradi rispetto alle medie stagionali. Ed è proprio a causa di questo fenomeno che la spiaggia libera dell'Ido Mappatella all'altezza della Rotonda Diaz di Napoli è ancora frequentatissima, nonostante la prossimità con gli inizi di settembre. Turisti e residenti, si può vedere passeggiando per il lungo mare Caracciolo, si muovono contenti sulla sabbia ancora cocente della spiaggetta anche grazie alla pedana di recente installazione fortemente evoluta dal deputato De Verdi Borrelli e da diversi rappresentanti delle istituzioni municipali, comunali e regionali. Sistemano teli e ombrelloni dove c'è spazio e poi si tuffano in mare. L'acqua è tiepida, insolitamente calda per questo periodo dell'anno. I record storici di questi giorni però riguardano soprattutto la temperatura in quota, in quelle aree che non risentono dell'urbanizzazione e che quindi danno una misura concreta di quanto il riscaldamento globale sia un dato di fatto. Oltre al premato dello zero termico oltre quota 5.300 metri, l'anticiclone Nerone sta portando un caldo anomalo su praticamente tutta l'Italia. La durata della sua permanenza sul suolo nazionale, stimano gli esperti, dovrebbe essere di circa 13-15 giorni. L'unica consolazione per napoletani e per chi si troverà in città nelle prossime due settimane, insomma, potrà essere un bagno al mare.